Dopo i massimi dal maggio 2018, toccati ieri, oggi il Fuzzimibe ha ritracciato meno 0,86% a 23.578 punti, in scia della nuova risalita dello spread sopra quota 160 punti base, 162,6 punti base più 5,2%. In particolare evidenza in negativo la performance i Prismian, meno 7,16% a seguito della pubblicazione dei dati e della diffusione di un outlook inferiore alle stime. Grazie